Allora, parliamo oggi di un nemico della donna molto insidioso, molto più diffuso e molto più pericoloso di quanto si sappia, la candida. La candida è veramente un compagno di viaggio di tutta la vita della donna, ma quando si arrabbia può diventare veramente un nemico formidabile. Ricordo che tutte noi abbiamo le spore di candida fin dalla nascita. In altre parole, la candida è presente nel corpo di ogni donna e di ogni uomo, normalmente in forma silente, ossia di spora. Quando noi utilizziamo delle terapie antibiotiche, per esempio, quando noi abbiamo delle diete eccessivamente ricche di zuccheri o di lieviti o anche di formaggi stagionati, quando abbiamo delle situazioni di grave stress, ecco che la candida può slatentizzarsi, passare dalla forma vegetativa, ossia la forma di spora, dormiente, alla forma attiva e dar luogo a delle candidosi o locoregionali, che possono interessare i genitali, possono interessare la bocca, possono interessare per esempio la cute dei piedi, oppure delle mucosi sistemiche, che possono interessare tutto il nostro corpo. In particolare sono di grande importanza, soprattutto dopo cure antibiotiche, le mucosi intestinali. Ricordo però che l'intestino è il mandante occulto, come lo chiamo io, di moltissime infezioni a livello poi vaginale e vescicale. Ecco perché di fronte a una candida recidivante è opportuno innanzitutto avere stili di vita appropriati e in particolare un'alimentazione che elimini i cibi lievitati, che sia molto attenta agli zuccheri, soprattutto del tipo glucosio, mentre il fruttosio non fa questo tipo di danno e attenzione ai formaggi stagionati. Poi attenzione a usare gli antibiotici quando sono veramente necessari e personalmente associo l'antibicotico, perché altrimenti una terapia antibiotica, soprattutto aggressiva come quelle oggi in uso, comporta un aumento spaventoso della proliferazione della candida intestinale e un aumento anche della candida a livello, come dicevo, vaginale. Questo causa uno dei più frequenti disturbi nella donna, il dolore ai rapporti, ed è frequentemente associata alla vestibolite vulvare, un'infiammazione cronica nella quale noi abbiamo una proliferazione delle terminazioni nervose del dolore, la iperattivazione di una cellula di difesa che si chiama mastocita e la contrazione difensiva dei muscoli che circondano la vagina. La sostanza del discorso è che da un dolore di tipo infiammatorio arriviamo a un dolore che viene detto di tipo neuropatico, cioè che si mantiene poi e si autoperpetua. Ecco che allora da una vaginite maltrattata, trascurata, deriva poi una situazione che va a ledere non solo la salute della donna e il suo benessere, perché alla fine non riesce neanche più a stare seduta, ma anche va a ledere drammaticamente la qualità della sua intimità sessuale. Ecco che allora grande attenzione a questa candida, grande attenzione, come dicevo, agli stili di vita, ma anche grande parsimonia nell'uso degli antibiotici. Usati bene sono i nostri alleati, ma certamente oggi noi assistiamo a un abuso nell'uso di questi farmaci che si ripercuote poi drammaticamente sulla nostra salute. Ecco, la candida è contagiosa? La candida è contagiosa. Noi abbiamo diversi ceppi di candida, il più frequente è la candida albicans, tuttavia anche il fatto che adesso stiamo usando molti antimicotici porta ad emergere altri ceppi di candida, la tropicalis, la grabrata, la cruzei, che sono però molto aggressivi. Addirittura io posso trovarmi con donne, io e qualsiasi medico che hanno in vagina per esempio la candida albicans, ma a livello vescicale la grabrata o la cruzei. Questo che cosa comporta? Una maggiore difficoltà terapeutica, perché magari un ceppo di candida è sensibile a un antimicotico, ma non all'altro. Ecco che allora la donna ti dice, ma io ho preso tutti i farmaci che lei mi ha dato e continua a stare male. Quindi sì, è un germe molto importante, il fatto di averlo poi sempre più rappresentato nella popolazione, lei pensi che in uno studio che è stato condotto in Italia ci ha fatto vedere che il 28% delle ragazze che si rivolge a un ambulatorio pubblico ginecologico ci va perché ha una vaginita da candida. Quindi questo è estremamente preoccupante, perché ci dice che fin da ragazzine devono confrontarsi con un'infezione che poi veramente lede il loro futuro dal punto di vista della felicità, dell'intimità, della sessualità, della relazione di coppia, ma anche proprio del benessere personale. Altra cosa molto importante che noi dobbiamo considerare con la candida è che questo germe tende poi a diventare sempre più aggressivo nelle recidive. Quindi quando la ragazza mi dice ma io questa dieta per quanto tempo la devo fare? Oppure è vero che non posso mettermi i jeans, ma fino a quando? Attenzione, nel momento in cui questa candida è diventata aggressiva e abbiamo un'alterazione degli ecosistemi, avere una dieta comunque saggia diventa una buona regola di vita, perché altrimenti avremo delle recidive sempre più difficili da trattare. Quindi non si tratta di essere sfortunate, come dicono molti miei pazienti, ma di fare attenzione che con uno stile di vita appropriato noi riduciamo nettamente il rischio di recidiva. E se la candida insorge in gravidanza, che cosa bisogna fare? La gravidanza comporta una grande vulnerabilità alla candida. Quindi da un lato il mio consiglio è quello di cercare di riportare la situazione genitale e sistemica all'equilibrio, cioè con una candida silente prima di iniziare una gravidanza. Poi in gravidanza fare attenzione a quegli stili di vita di cui parlavo, non è vero che si deve mangiare per due, l'alimentazione in gravidanza deve essere molto saggia, l'incremento di peso è di circa un chilo al mese nel primo trimestre, un chilo e duecento grammi nel secondo trimestre, un chilo e mezzo al mese nel terzo trimestre. In altre parole andiamo tra i nove e i dodici chili per una donna che parta a normo peso. Questo significa che non dobbiamo aumentare così tanto l'alimentazione, ma semmai distribuirla diversamente. Per esempio al mattino preferire lo yogurt, il latte o i cereali, alle 11 della mattina il ferro con la vitamina C, a pranzo le proteine e invece cereali, legumi o amidi alla sera. Questo è importantissimo perché fa sì che l'assorbimento di zuccheri, a lento assorbimento, aumenti gradualmente la glicemia nelle ore notturne, nutre bene il bambino durante tutta la notte, non fa ingrassare la mamma e quindi mantenere una glicemia che non ha dei picchi e soprattutto che non ha dei picchi di glucosio riduce nettamente la vulnerabilità alle ricidive di candida, ma mantiene anche un nutrimento ottimale del bambino con una mamma che a 40 giorni dal parto si mette i vestiti di prima della gravidanza.